Naturalmente se Marco non riesce a registrare scaricherà questa live per farci magari un edit Vediamo Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Tanto già so che questa parte verrà utilizzata come intro di questo video quindi Best of the LOL Minchia sarebbe carino Di Murdo Fotopalle reunion Questa è l'intro Comunque ci tengo a precisare una cosa del video Non è stato lavorato al massimo al 100% delle potenzialità ma è un video giusto per presentare la reunion Stai cercando una giustificazione Ovvio Stai cercando una giustificazione Va bene noi intanto ce lo guardiamo 3 2 1 Vediamo Come stavo dicendo Arragioniamo Raggiungimento Delle 15 sub qui sul canale Il sottoscritto Farà di tutto Di tutto Per riportare sui vostri schermi Il team Fotopalle C'è dell'epicità in tutto questo Comunque Sì per forza Per forza Oh Giorno Una volta ne facevo parte Ma ormai quei tempi sono passati Ma chi lo sa Forse un giorno Per il tempo Per il tempo E' Per il tempo Per il tempo E' Ahahahah, questo è vero. Ma se io fosse un figlio di gioco, mi sono sempre chiesto. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Questo è un progettino Non è un progettino Un progettino di un progettino, io ho ricevuto La crescita è un progettino di un progettino Un progettino di un progettino Tu è anche così? Gianfiel Polnare Qu'è la scocca? Ti è un progettino Di controllo Il m'è altro Se volete in un progettino Sera di un progettino Qui ci sono! Il m'è anche un progettino Dio! Il m'è anche un progettino Un progettino In un progettino In un progettino Un progettino Grazie a tutti. Non ho parole. Ma no. Cosa ho visto? Cosa? Cosa? Cazzo ho appena visto? Raga. Che lavorone, mamma mia. Siamo anche in undici. Ma panco quando faccio il rapista roba. E di solito quello è il mio top content, lo dice lunga. Signori e signori, il team Fotopalle è ufficialmente tornato sui vostri schermi. E... Bella, ragazza. No, Simona ha riscattato scegli il campione. Oddio. No, oddio. No, no, Simona. No, no. Giochi Kane giungla? Va bene, lo gioco. Gioco Kane. O Talon. No, Talon lo lascio a chi lo sa giocare. Vero, Xen? Sì, sì. Io ho il massimo esperto di Talon. Allora, intanto andiamo a bannare l'unico campione in grado di giocare con una tastiera per giocare a Osu. Lo stavo per bannare io. Ma chi cazzo? Ah, sì. Lui. Grande. Scassa cazzo. Oh, guarda che se tu metti il gioco in giapponese lo senti dire Rodorollata. 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 No, perché è doppiato dal doppiatore di Dio. Hanno fatto partire il pronostico, vinceranno la partita. Guarda, io punto tutto sul no. Io ho starto dagli uccellini. Ciao belli. Ragazzi, a 30 sub torniamo su Valorant. Almeno sfruttiamo l'onda. A 30 sub regaliamo un PCA da adesso. Uh, attenzione. Accetto, accetto, accetto. Posso portarti gli uccelli? Ma ce la faccio a farmeli da soli gli uccelli, tranquilli. Io sono abituato a prendere tutti questi uccelli. Oh. Cosa? Aspetta. Non ho detto nulla. Non ho detto nulla. Non osate mettere parole in bocca. Oh, grazie per la sub regalata a Reside. Madò, va, lo potresti anche donare. Ma non ti va bene niente? No, raga, naturalmente scherzo. Però voglio dire, se ti avanza una 50 euro. Ma aspetta, è un leesino selvaggio quello? Signori, gank! Ok, ha flashato, va bene. Va bene, va bene, posso accettarlo. Sto dicendo cacare, madonna santa. Vabbè, fra, è partita di riscaldamento. Giuro che se sta un'altra volta via con qua dentro, mincazzo. Oh, Marco! Me ne devo andare, che muschiatto. Per qualche ragione mi ha bloccato in area torre, quindi sono morto. Cioè, stavo morendo. Non sono morto. Qualcuno dice che è ancora in circolazione. Beh, c'è chi dice che è morto. Bagianate così, penso io. No, per me è ancora in circolazione. Ma schiavare, va, 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 va. È morto. Compà, sto arrivando. Ho messo il boost, ho messo il boost, ho messo il boost, ho messo il boost. Ho messo le boost, bendo sopra il booster. Oh no, compà. Ma fammi prendere almeno l'assist, ma io non lo so. C'è l'isigno qui? Ma come sei forte? Ma come sei forte? Signori, il dive è matto. Vai, vai, vai. Vai. Bravo. Mamma mia! Cazzo. È pure da me, è comparso a casa. Ciao, coglione. Oddio, non ci credo. Ma è stupido. No, sono stupido io. Compà, lei? No, sono tutti quanti qua. No, ce l'ha mai, ce l'ha ma su lì. E io sono schiavato. È morto. Io ho preso una kill, lui è morto. È morto. Lasciamo che il suo sacrificio non sia del tutto in vano. O lasciamo che il suo sacrificio non sia del tutto in vano. Posto. Ok. Oh, bella sta combo, frate. Ma non ce la fa, non ci arriva. Oh, quello lì, porco. Vieni qui. Oh, bella. Vai, 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 vai. Sembra un po' no. Vai, vai. Sì, più in fondo. No. Non ci arriva niente. Lasciamo stare. Non ce la faccio. Non ci arriva niente. Ragazzi, il colpo non è entrato. Sapete di chi è colpa che abbiamo perso? Mia, ovviamente. Allora, qualcuno deve essere onorato questa partita. E io ci terrei ad onorare Anthony che non ha parlato per tutta la partita, praticamente. Vai, vai. Questa cosa ricambio con un GG a scena, dai. Iscritto, ricambi. Potremmo creare una cosa. Qua lo dico. Se gli alpini esports riescono a organizzarsi, io proporrei la sfida team fotopalle contro alpini esports. Ci dobbiamo allenare. Adesso, per tutta la partita, io adesso comunicherò solo dicendo. Miau. Alessio, resta qui che mi devi pullare. No, no, io me ne vado a fare in culo. No, miau, vieni qua, miau. Coppa, mi servi, miau. Sì, sto fermando, eh. Eh, miau. Bello. Bello. Bravo. Questa è una bella azione. Oh, grazie, Marco, veramente. Io non so veramente come controbattere a questo tuo complimento. Adesso mi sento fortemente a disazio, mi sento arrossire. Senpai. Cannone speciale. No. Che cazzo hai fatto? Vediamo se riesco a ultare da qua. Grazie. Eh, so scherzato. È troppo tempo. Bella. No. No. Chissà con cosa. Con l'herpes, con l'herpes. Con l'herpes. Io ci sono che ti posso dare scudo. Lo giro, lo giro che sta scappando di qua, lo giro. E io sono morto. E io sono morto. E io sono morto. E io sono morto. Oh, ragazzi, che cazzo è sto? No, va buono, raga. E vabbè, ragazzi. Allora, io do un honor a... No, Andrea ha parlato troppo sto match, Xen. Vi ringrazio anche Andrea, Alessio, Marco e Giulio per essere tornati. Io vi ringrazio. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte, signori. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.